Una sera siamo andati a Quabona con Caretti, con molti partigiani perché si doveva prendere un maresciallo tedesco, perché portava via il mattino, faceva portarvi il latte dei contadini e lo mandava al comando a Busana, alla Colonia. I paesi erano pieni di gente e allora i paesani ci avevano fatto sapere che era bene che lo prendessimo. Allora siamo andati là una sera che Caretti ci aveva fatto fasciare i piedi con dei sacchi per non fare rumore, poi non sono serviti a niente perché allora c'erano tanti pastori nei paesi e avevano i cani. I cani se ne sono accorti che c'eravamo, anche se non si faceva un gran rumore, e si sono messi a baiare. Allora questo maresciallo è uscito con un soldato per vedere un po' cosa stava succedendo vista l'insistenza dei cani. Noi però avevamo messo delle mine nella strada proprio perché abbiamo detto se viene uno scontro per evitare che i soldati di Nismozza scendessero giù e andavano sulle mine. Allora lui mentre passeggiava nella strada per vedere un po' cosa stava succedendo abbiamo risolto il problema che è saltato per aria. se si doveva prendere vivo così l'hanno preso morto, è saltato lui e è saltato anche il soldato e loro ci siamo dovuti ovviamente ritirare insomma ecco.